Effettivamente riflettori accesi sui bitcoin da ieri sera perché la SEC, l'autorità della borsa americana, ha autorizzato per la prima volta la vendita libera a Wall Street di un titolo derivato, un ETF, proprio sui bitcoin. Vuol dire che lo si potrà comprare, lo potranno comprare tutti gli investitori come un'azione o una parte di un fondo comune. Finalmente parliamo di qualcosa di serio. La televisione, il TG soprattutto, sta parlando di qualcosa di importante, non sempre, delle solite cavolate che a noi non ci interessano e queste cose ci fanno gasare. Quando la tele incomincia a parlare di queste cose, molte persone che sono fuori dalle criptovalute, quindi persone che non c'entrano niente col mondo delle cripto, incominciano a fare fomo, incominciano a pensare, avevo sentito bitcoin, sì ne sento parlare ma non mi interessava, adesso cavoli tutti vogliono entrare, adesso è il momento di entrare. Però ovviamente non avendo un background rischiano però di farsi male. Chiaramente questo fa la storia per bitcoin perché fa capire che il mercato è maturato, è maturo per competere all'interno di un mercato più ampio. Con ciò comporta maggiore regolamentazione, è una cosa ovvia, però maggiore adozione. Infatti dobbiamo essere soprattutto contenti per bitcoin e per l'intero settore. Ovviamente comprate bitcoin e detenetelo sui vostri ledger, hardware, wallet, non comprate l'etf. Not your keys, not your money. Ovviamente non sono consigli di investimento, però a buon intenditore, poche parole. Ora andiamo subito a vedere insieme il grafico di bitcoin, poi andiamo insieme anche a vedere il grafico di ethereum. Perché stiamo vedendo che adesso bitcoin potrebbe avere ancora continuazione. Prossimo target 50.000 dollari. Io ho scaricato intorno ai 47.000 qualcosa. Ho voluto anticipare, ho scaricato qualche posizione e andrò a scaricare ancora qualcosa. Se facciamo un altro pump forte, io vado a scaricare ancora dai 50.000 in su. Poi ho sempre il mio target dell'alltime high con i miei holdings in bitcoin che non andrò a toccare. Però se da qui andiamo avanti a salire, io vado avanti un po' a scaricare perché siamo molto molto estesi. E ovviamente l'etf spot approvato non vuol dire che ha il prezzo vola, anche perché ci vuole del tempo per fare entrare capitali. Però su larga scala siamo messi benissimo. Questo è quello che volevamo vedere. E dopo questa narrativa di bitcoin dell'etf spot approvato, l'attenzione passa su ethereum perché è sottotono, quindi aveva ancora molto da dare, ma perché poi ci sarà anche la potenziale approvazione dell'etf spot su ethereum prossimamente. E quindi adesso si gioca su questa narrativa. Tenete a mente che le criptovolute sono mosse da eventi, da narrative. È così che si muove il prezzo. Abbiamo visto tutto quest'anno le criptovolute sono mosse con la crisi delle banche. Dopo qualche mese fa sulla narrativa dell'etf spot bitcoin, adesso c'è l'halving. Poi su ethereum la narrativa di un etf spot su ethereum. Quindi vedete che ci muoviamo soprattutto su narrative. E il prezzo dell'etereum secondo me potrebbe andare ancora a 3.000. Io qualche tempo fa ho fatto un video dicendo il mio target è 3.000 nel breve termine per andare a scaricare la maggior parte delle posizioni che ho preso in bear market. Poi sempre il mio holding su ethereum per l'olte mai. Io penso che possiamo andare tranquillamente a bucare l'olte mai e andare verso i 7-8.000 dollari. Perché comunque siamo posizionati bene, ma nella long run, non oggi. E quindi sinceramente se andiamo 3.000 scarico un po' perché voglio prendere dei profitti. Perché se no io ho lavorato per nulla in questo bear market. Cioè quando io dico voglio prendere dei profitti non vuol dire che non credo più nel mercato. Non voglio dire che siamo sovrapprezzati, scendiamo. Però se io ho lavorato in questo bear market mi sono preso dei rischi e comunque anche dei rischi importanti. Perché comunque quando andiamo a investire non sappiamo realmente se l'investimento va a buon fine. E' giusto anche premiarci e quindi in questo caso se va a 3.000 è un possibile target scarico un pochettino. Stiamo vedendo che il Percetrium contro Bitcoin ha recuperato. Abbiamo avuto un V-Shape recovery fantastico sul giorno. Ora vogliamo vedere maggiore continuazione. Dobbiamo bucare la 200 EMA giornaliera e cambiare il trend assolutamente sul time frame settimanale per Ethereum Bitcoin. In quel caso le Alcoin potrebbero fare i numeri. Perché Bitcoin ha rotto resistenze importanti. Se da qui Bitcoin va a lateralizzare ma non va a scendere sotto i 45.000 e il Percetrium contro Bitcoin rompe sul settimanale e Ethereum continua a salire, la Bitcoin dominance continua a scendere, perché vedete in questa giornata cosa è successo? Noi possiamo vedere Alcoin mettere da qui anche il 50, 60, 80, 100%. Ovviamente non consigli finanziari, magari non succede, però siamo su quella strada. Quindi adesso gli Alcoin si incominciano a muovere. Ovviamente abbiamo sempre dei rischi, perché comunque Bitcoin se per caso mi va a correggere forte sul settimanale e Alcoin perdono moltissimo. Però la narrativa si è mossa. È totalmente differente. Infatti se andiamo a vedere l'Alcoin Season Index sul giornaliero, vediamo che stiamo andando verso l'Alcoin Season. Diverso è sul grafico mensile, che siamo ancora in un middle range. Vogliamo vedere almeno ancora il grafico mensile recuperare. E ci vorrà un po' del tempo, però non siamo posizionati malissimo. Io penso che potrebbe arrivare un Alcoin Season. Abbiamo visto un po' di Alcoin Salire, ma non è ancora entrata l'Alcoin Season. Abbiamo visto un uptrend sull'Alcoin, ma comunque su scala annuale sono depreciate rispetto a un Bitcoin. Quest'anno c'è stata la Bitcoin Season, non l'Alcoin Season. È quello che dobbiamo assolutamente tenere a mente. Prima che mi dimentico, vi ricordo che c'è una mega promo di Bitcat Exchange, che Mindchart utilizza per fare operazioni. Vi diamo il meno 30% di sconta vita sulle trading fees. E se vi scriverete con il mio link, che troverete semplicemente sotto in descrizione, cosa vi diamo? Vi diamo 10 dollari. Inoltre, se depositerete 100 USDT, riceverete 40 USDT di bonus. Tutti questi bonus sono in Bitcoin. Vi ricordo che i premi saranno distribuiti entro 7 giorni lavorativi dal termine dell'evento. Quindi all'incirca fra un mesetto. Se non vi arrivano, è per questo motivo. E vi ricordo che dovrete fare il KWC per ricevere questa mega promo. Ritornando a noi, se andiamo sul nostro Token Titles, troverete tutto in descrizione, è il nostro sito, ci sono un sacco di cose. Vediamo che molte Alcoin stanno salendo. Per esempio, tra le trending, vediamo Alcoin che hanno messo anche il 20-30%. Se andiamo nelle prime top 10 per market cap, vedete che comunque Alcoin hanno messo per esempio Cardano al 20%. AVAX 17 e via dicendo. Se andiamo a vedere Layer 1, tutto in verde. Sui il 35%, Phantom quasi il 20%, Multiverse X il 16%. Layer 2, andiamo a vedere per esempio Metis il quasi 40%, Mantle il 27%. Abbiamo molta hype, molta FOMO al momento. Se noi riusciamo realmente a perdere la dominanza di Bitcoin, quindi la Bitcoin Dominance, mi va a rompere con forza i 50 e qualcosa, e Bitcoin rimane forte, sono sicuro che le Alcoin andranno a mettere moltissimo su larga scala nel prossimo futuro. Ovviamente, adesso l'attenzione soprattutto su Ethereum, dobbiamo vedere la regina delle Alcoin che rompe a rialzo, va oltre 3.000 e il suo Pairs va a rompere in maniera definitiva il trend, il downtrend che sta avendo su tutti i time frame, dal giornaliero settimanale al mensile. E solo quando Ethereum è più forte rispetto a Bitcoin che le Alcoin prendono forza, e lì andremo a vedere le nostre canale alcoin mettere buonissime percentuali. Inoltre voglio anche ricordarvi, se volete rimanere sempre sul pezzo, di seguirci sul nostro gruppo Telegram gratis, tutti i link in descrizione. Fate un salto anche sul nostro mindchart.io che vi faccio vedere, questo è il sito, ci sono un sacco di cose, notizie in tempo reale, tutto gratuito ovviamente, perché comunque vogliamo fare servizi gratis per voi, che vi permettono comunque di rimanere sempre sul pezzo. Questo è il nostro sito web con un sacco di news, avete anche Token Titles che abbiamo visto prima, e abbiamo anche X-Wall dove troverete tutti i tweet più importanti. E infatti noi utilizziamo soprattutto questo X-Wall per le breaking news. Inoltre se vi fate un account riceverete anche il videocorso di 12 ore sull'analisi tecnica gratis, tutto completamente gratis. Dobbiamo comunque essere molto contenti, abbiamo scritto la storia, possiamo dire io c'ero, ho creduto in Bitcoin e nel mondo cripto, chi ha fatto guadagni fa bene a prendersi un pochettino di guadagni. Su larga scala vedo un futuro prospero, perché adesso l'ETF è stato approvato, non è che se lo possano rimangiare, possono fare giochini. I capitali entreranno se entreranno, ma ci vorrà del tempo. Non ci deve spaventare il fatto che non abbiamo visto un pump incredibile, però abbiamo visto una ripresa di Ethereum che è un punto molto molto importante, è un punto fermo, cardine, nel settore delle cripto, perché comunque su Ethereum c'è il mondo, viene costruito il mondo su Ethereum, è molto molto importante vedere Ethereum ritornare in forza, se vogliamo anche vedere tutte le nostre altcoin, tornare comunque a splendere come la precedente Burran. Io con ciò vi voglio salutare, ci vediamo al prossimo cripto appuntamento. Grazie a tutti.